Sono Lucrezia di Let's Play in A-Game e adesso vi mostro come realizzare una galanze maniche. Abbiamo usato come prima cosa, abbiamo steso due passate del numero 901 Snake Skin. Poi andiamo a realizzare con un blu intenso AN19 Trippy Hippie. Andiamo a realizzare lo sfondo della nostra galaxi e poi realizziamo i dettagli con un bianco numero 24 French Keep. Andiamo a realizzare poi la profondità della galaxia con il 991 Endless che fa parte della nuova collezione Color Club Shift to Neutral. E infine andiamo ad aggiungere il glitter Beyond the Bistletoe che ha un sottotono azzurro. Da uno dei nuovi kit Masterclass prendiamo una spugnetta da Gradient e andiamo ad applicare una puntina di smalto blu sul bordo. Realizziamo una sorta di S al centro dell'uncia per creare il centro della nostra galaxia. Possiamo scegliere di farlo più o meno intenso aggiungendo altro colore. e poi andremo a sovrapporre un po' di rosa, sempre una piccola quantità, e andremo ad aggiungerlo al centro della nostra galaxia per dare un tocco ulteriore di colore. Possiamo aggiungere dei tocchi di bianco per aumentare ulteriormente la profondità in alcuni punti. come delle nebulose e poi andiamo a riaggiungere un poco di blu, appena appena, una puntina, per uniformare i bordi. Ok, adesso con la nostra tavolozza e il fianco aggiungiamo qualche stellina più grande. Dove vogliamo. Possiamo aggiungere con il pennello a punta fine alcune stelle di forma diversa, facendo una semplice croce. e quando lo smalto si sarà asciugato possiamo aggiungere colori in punti che sono rimasti leggermente scoperti. Con lo smalto glitteratolografico celeste andiamo a scaricare il pennello e aggiungere di glitter alla nostra nail art, perché le stelle sono molte più di quelle che abbiamo disegnato. Adesso andiamo a sigillare il lavoro con il top coat ad asciugatura rapida 0,60 che renderà la nail art più lucida e che durerà più. Ed ecco qua la Galaxy Nelan terminata. Ciao! 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 Ciao!